Bergoglio non è mai stato il Papa. Questo dimostra il libro Codice Ratzinger di Andrea Cionci. Venite a sentirlo a Mosciano Sant'Angelo. Lo scrittore e giornalista romano terrà una conferenza di presentazione del suo volume nella sala consigliare del comune di Mosciano. Venite domenica 28 aprile alle ore 15 e 30. Avrete la possibilità di conoscere la ponderosa inchiesta dell'autore, che dura da circa 4 anni, e di capire come Benedetto XVI non abbia mai abdicato. Andrea Cionci viene a Mosciano. Non perdetevi l'incontro con lui e con la sua scoperta. Il conclave del 2013 è invalido.